Ora c'è più gente nei boschi, davvero, che per la costrada, che per le strade. Tutta fa forcini, i boschi, pieni di gente, gli ha fatto le fungaie dappertutto. Io sono andato alla Coppe, appena più po', lo trovai subito. Tu entri, sulla destra c'è la frutta, c'è i forcini. Mi porta a andare per i boschi, a raspare, a... Ma poi c'è l'intesserino, già e tu c'hai nemmeno l'intesserino, via! Tu entri nelle barre, ragiona solo di forcini, dice io fatti di sotto, poi gli hanno una macchina parcheggiata vicino, ti fanno andare fuori, dice, vada, ce l'ho un pauliera, gli hanno la cassetta o i funghi per farti gola, capito? Ho trovato ora, che me ne dà un paio, se no, e gli entri, gli hanno funghi, gli ho trovato, gli ho trovato, gli hanno trovato in Carvana, ti dicono in Carvana, perché non ti dicono, gli hanno trovato, perché se no dopo tu ci vai, e allora, però comunque uno qui uno là, uno qui uno là, uno qui uno là, e dice, alla fine gli trovano questi funghi, ma non gli li portano, perché gli fermano e c'è questo macello, ne viene il tesserino, è un macello. Gente disperata, non sanno come fare, chi fa il risotto, chi gli fa fritti, chi gli fa la bistecca, cappelle dappertutto, cappelle, madonna, ragazzi, cappelle, cappelle le funghi, comunque, ci sbagliamo, e partano alle 4 da notte, alle 5 da mattina, per andare a cercare funghi, il giorno prima ho le pile o le torce, o io se andavo in piscina, gli ho trovato subito i funghi, due c'erano ancora per levagli, un macello. Ma che fa funghi, un fa funghi, gente a guardare il cielo, ma che feore, se c'è il sole oggi, Giotto fa funghi, se non fa funghi, o vai alla Coppa, alla Conad, ci sono funghi, c'è il mio, tanti problemi, cercare funghi, e tu vai, tu li pigli, tu pieni anche più, poco poi. Fungaioli che vanno a bucare le lotte dell'automobile, altri fungaioli che gli hanno gelosi, che ne ha presi di più, che ne ha presi di meno, che gli altri fungaioli gli hanno andato, o vai nell'ombrone a cercare funghi, ma c'è anche così, c'hanno anche quegli sotterrati, i tartufi, i tartufi, bordano il culo, io a tartufi, tartufo, ma tartufo c'è il tartufo. Gente che si è iscritta apposta su Facebook per mettere la foto con funghi, per far vedere che gli ha trovato funghi, gente che gli è andata a Prato a cercare i frataioli, dice a Prato, cerchiamo i frataioli, a Quarata c'è il fungo segaiolo, se tu lo so che tu li manciai, o po' per dire. Poi dice se non tu sai all'occhio perché tu puoi pigliare i funghi quegli allucinogini, magari, magari, gli cerco, e poi a posta le bosche a cercare gli allucinogini, gli dice stai attento, io ci ho provato ma gli hanno tutti buoni egli mia, e a loro che gli fa? Ma poi porcini, 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 o Pinaroli ragazzi, o Pinaroli, o che fine ha fatto Pinaroli, gli erano buoni Pinaroli, o Gallettini, allora a me mi chiamano più Gallettini che Pinaroli, che Porcini, te la dire, te la dire mi chiamano più il sugo su Gallettini, ma per questa ladra è assassina, voi questi porcini, che mezzi li hanno preisportati e importati dalla Romania, fanno finta, dice, e porcini, e porcini, via, e funghi, e funghi, e funghi, e funghi, comunque io dico una cosa ragazzi, i funghi a cera, i pistogli a bluse, e non tu li ritrovi, e si scherza eh, vabbè, comunque, che c'è? Oh, comunque c'è anche io funghi, questo lo fa con la bistecca, buona Ugo, buona!